Sindaco, la situazione? La situazione, ci stiamo lavorando, anche le piogge di questa notte, di ieri, non c'è che ci aiuta perché finché il terreno è così bagnato è difficile trovare, però è chiaramente questa è una zona antica in cui c'erano tutti i fossi che col tempo sono stati ripresi, i vecchi percorsi. Ovviamente la zona è transennata, chiusa anche al traffico pedonale, il centro rischia proprio di cadere, di franare? Per ora no, stiamo vedendo di alleggerire il peso che c'è su quella parte, già non c'è l'accesso, è chiuso. Fortunatamente non ci sono persone, fortunatamente è questo, che rischi per le persone. se non quelle persone che ci vanno venendo meno al divieto di accesso, ecco, questo qui, di curiosi eventualmente, l'unico problema può essere questo. C'è anche un'abitazione, sembra interessata nel suo comune da una frana, cioè quantomeno insomma è vicina? A casa di luce, no, niente di straordinario, fortunatamente niente di straordinario, sono piccoli smottamenti vicino all'abitazione, ma non è che è il rischio l'abitazione, questo sì.